Su camera, Melle. Vieni, che cosa dobbiamo... Quello che vuoi, te l'inviando. Eh, ma stai troppo distante tu e l'intervistato. Stai inizi, scusa, una domanda, una domanda. No, Torino, venite qua. No, vengono qua, vengono qua. Oggi, oggi cosa è successo? La luce è poca. La luce è poca? Sto cercando la luce. Vengono qua. Ma più dietro, più dietro, più dietro, ancora un po' più dietro. Basta, basta così, va benissimo. Mario, sei un po' spogato. Lei è un politicante. Cosa pensa nella politica a generale di Pozzoni? Come stai? Ti dì, non è un po' pagato, sono fuori? E rimane una d'intervistata, lo sa? Questa è una d'intervistata, là? Quella che camminava. Senti, detto Senti. Senti, vengono qua, l'intervista. Stanti, vengono qua, l'intervista. Questa è il prezzo, l'intervista mi piace. Buongiorno e buonasera. Allora, prima cosa si solti per l'intervista? Quanto vuole? Eh? Quanto vuole? Quanto vuole? 50 cosa? Euro. 50 è così poco? Ti vende per così poco? Ti, 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 ti fai 50. Scusa, ti faccio l'intervista. Cosa ci racconta oggi? Cosa è successo nella vita? Oggi si è rotto a cinquant'e Allora, dopo l'intervista, dopo che non si va bene Dopo prima l'intervista La luce però è poca Ma non è la bella La luce è più sotto all'ampione La macchina dove Stiamo andando in ferie oggi L'impianto non va bene? L'impianto si è rotto e non va bene Eh, come sta rotto? Perfetto, perfetto Ma Luzio dove sta dormendo? Luzio sta nel cofano e sta dormendo Poi ci sta Mario Capo il quadro Il microfono E la politica La politica Sta inguaiata A proposito La lavatrice La lavatrice La lavatrice Questa funziona Te l'avevo io Cinquant'e E' un po' sbagliatella No? E' già fatta Sto in intervista La lavatrice Cinquant'e la lavatrice Non si vede la luce? La luce è poca Non c'è la luce Ma caro, hanno staccato la luce Signore Signore Vincenzo Parlo Si è riebita Si è riebita Si è riebita È molla Si è riebita Si è molla Va bene Taccala Camera grazie